Salve cari amici, partecipo anche io con gioia a questa iniziativa Grottolella Legge e in questo breve video vi presento insomma il libro L'età dei diritti, il libro scritto da Norberto Bobbio, un libro che parla dei diritti dell'uomo, del fondamento dei diritti dell'uomo e dell'evoluzione quindi dei diritti dell'uomo, un libro quindi che elabora, che narra quella che è stata ecco tutta la storia che ha portato al riconoscimento prima e alla protezione dopo dei diritti quindi dell'uomo e c'è una bella espressione che di cui a poco leggerò e che voglio condividere con tutti voi, una espressione, un pensiero che è tratto da questo bellissimo libro di Norberto Bobbio L'età dei diritti. Questa espressione spero possa guidare quei comportamenti soprattutto dei governanti della nostra nazione, dei governanti di tutte le nazioni e degli stessi governanti della nostra unione ecco europea e che possa quindi questo breve scritto insomma possa essere una guida ecco importante per gli uomini più potenti del mondo perché in questo momento ecco abbiamo bisogno ecco di realizzare insomma le parole insomma che Norberto Bobbio ha scritto in questo bellissimo libro e che leggo subito. diritti dell'uomo, democrazia e pace sono tre momenti necessari dello stesso movimento storico senza diritti dell'uomo riconosciuti o protetti non c'è democrazia, senza democrazia non ci sono le condizioni minime per la soluzione pacifica dei conflitti. Con altre parole la democrazia è la società dei diritti e i sudditi diventano cittadini quando vengono loro riconosciuti alcuni diritti fondamentali quindi ci sarà pace stabile, una pace che non ha la guerra come alternativa solo quando vi saranno cittadini non più di questo o quello stato ma quando vi saranno cittadini del mondo. Ciao a tutti